Let's put something up here! I can't remember what humanity is able to do! Yes, what great things we can do! Commander Gallagher, here Red Crown. The infects have control of the points that lead to the red zone. Is White Light ready to release? Received, Red Crown. We are ready White Light. Sgombreremo la strada, passo. Promette male questo White Light. A tutte le unità, qui Red Crown. Rilascio del White Light in corso. Noi, noni, 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 noni. E' una chie, però lo schiavano. Sf, fatica! Noi... Sf, fatica! Siamo arrivati. diffuso nella griglia 07 non dovresti provare a fare questa roba a uno di famiglia sapevo che avrei incontrato uno di voi red ground qui cottonmouth 2 1 abbiamo avvistato l sta inseguendo gallagher e gallagher è infetto ricevuto cottonmouth 2 1 confermare stato di gallagher passo abbiamo due infetti in fuga e gallagher ricevuto 2 1 attendete passato entrambi gli obiettivi sono sulla strada entrambi gli obiettivi sono precipitati a livello stradale ripeto i bersagli sono a livello stradale non sei migliore di quegli umani alex mercer non tollera la disobbedienza e nemmeno io direi che è ora di abbatterti che vorresti fare ora fermo che stai facendo pagherai questa bravata con il sangue beller Se strisciassi sulle cinocchia, se implorassi, Mercer potrebbe anche perdonarti. Dai, su! Sono più vecchio ed evoluto. Non hai idea di quello in cui ti stai cacciando? Dunque, vorreste dire che il White Light può mutare? No, no. È altamente variabile. Non muta da solo, ma possiamo trasformarlo. D'accordo. Ma in cosa? Lei, lei non ha capito. Non si trasforma in altre sostanze, ma può assumere delle nuove proprietà, fare cose per cui non era stato progettato. Vuole dirmi che possiamo dargli dei nuovi effetti collaterali. Esatto. Intendevo proprio quello. D'accordo. Ora facciamo un po' di danni. Quella è proprio violenza gratuita, porca puttana. Allora facciamo un po' di danni. Allora facciamo un po' di danni. Padre, quel comandante del programma White Light pare che sia uno degli evoluti di Mercer. Degli evoluti? Ma perché dovrebbero volere una cura? Non lo so. Sarebbe l'unica cosa che potrebbe abbattere gli infetti e Mercer la sta proteggendo. Non ha senso. Dobbiamo capirci qualcosa prima che sia troppo tardi. Registrazione d'archivio 224 giorni fa. Spiegati meglio. Erano... signore, le erano addosso. E tu sei intervenuto per salvarla. Tanto valeva salvare una mucca o una cavia da laboratorio. La prossima volta ti punirò personalmente. Puoi andare. Dovremmo levarci dalle palle. Cos'è? Hai paura? Siamo abbraccati da un tizio che compare dal nulla e mangia i carri armati con i denti. A me sembra divertente. Siamo abbraccati da un tizio che c'è. Siamo abbraccati da un tizio che c'è. Grazie. 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 Grazie.